Fano non manca certo di monumenti e di luoghi da visitare in varie parti della città, ma la città legata all'architetto romano Vitruvio ha una carenza di un'altra struttura voluta e inventata da un suo concittadino, l'imperatore Tito Flavio Vespasiano, i bagni pubblici. Un'esigenza quella di servizi igienici pubblici efficienti sentita da tempo da tutti i cittadini fanesi, ma che diventa necessità in concomitanza di flussi massivi di persone locali o turisti, vedi Carnevale. E allora l'amministrazione comunale ha deciso di stanziare una somma di 30.000 euro come manutenzione straordinaria per una remise in form di quattro bagni pubblici ora chiusi, al Pincio, in Sassonia, in Viale Ruggeri e ai passeggi. Era un'esigenza avvertita dalla popolazione, ma anche dai gruppi organizzati di turisti che ad esempio durante il Carnevale hanno pacificamente invaso la città di Fano. Oggettivamente negli ultimi anni sono stati un po' trascurati perché le esigenze di bilancio non hanno previsto questa attività. Noi crediamo che comunque abbiano una funzione molto importante anche e soprattutto per il turismo, oltre che per i cittadini, per cui abbiamo previsto un finanziamento di circa 30.000 euro per la sistemazione e manutenzione straordinaria di alcuni bagni. Inoltre abbiamo previsto anche la sistemazione dei bagni dei passeggi che contemporaneamente al bando che abbiamo previsto per la gestione del chiosco che si trova appunto ai passeggi saranno riattivati e che ovviamente avranno una funzione oltre che di servizio al chiosco che potrebbe andare in gestione, ma anche alla popolazione che comunque va ai passeggi normalmente. Pensiamo per l'estate di essere pronti, gli interventi sono minimi, sistemazione, una riattivazione per cui non ci sono tempi molto lunghi, solo i tempi burocratici per affidare l'appalto e consegnare i lavori.